Ragazzi buongiorno, un saluto da Duccio, guardate che cielo splendido, il sole a picco, sono in compagnia per questo weekend di questa splendida Triumph Traxon R e potevo farla stare ferma lì in garage, assolutamente no, per cui mi faccio aiutare dall'autostrada, adesso la destinazione è Carzoli e poi punteremo su due laghi un po' minori ma sempre molto affascinanti, il lago del Turano e il lago del Salto. Andiamogli a scoprire insieme, sigla! Uscita autostradale Carzoli e Auricola ed ora puntiamo al lago del Turano. Qua mi dice riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, quindi deviamo dalla via per Turano, beh il colpo d'occhio è notevole. Bella la nostra Italia ragazzi, questo è Paganico, guardate, è baciato dal sole in mezzo al verde e di fronte eccolo qua, l'invaso artificiale del lago del Turano che come sappiamo è la prima nostra destinazione di oggi. Ritorniamo in sella! Ragazzi eccolo, il lago del Turano in tutta la sua bellezza, acqua azzurra, acqua chiara! Ma ci sarà un bel vedere dove farvelo appunto gustare in tutta la sua pienezza e lo dobbiamo andare a cercare. Vediamo un po' se qua riesco a trovare... Sì sì sì, guarda, scendo qua, parcheggio e scendo e ve lo faccio vedere, dai! Era una casa privata quindi per adesso niente lago, però visto su Google Map abbiamo buone possibilità di vederlo questo lago, dai! Ci siamo a 10 metri ma tutto sommato ce la possiamo fare! Bravi che non siete stati uomini di poca fede e avete continuato a vedere questo incredibile filmato sul lago del Turano! Così vi voglio, uniti, uniti alla meta! Che spettacolo ragazzi, addirittura una barca a vela sul lago del Turano, ma che bello! Ma che bello, che bello! Io sapete che faccio? Mi fermo e faccio una foto, beh, come potrei differentemente se no certificare, vero, la mia presenza qui. Va bene, ci vediamo fra poco allora, intanto vi faccio vedere quanto è bello, eh! Guardate il colore dell'acqua, spettacolare! Ma guardate cosa vi faccio vedere! Ma è spettacolare! Un uomo che fa dei tuffi come fosse un delfino! Veramente! L'incarnazione, non lo so, di Robocop! Eh? Eccolo qua! L'uomo bionico per eccellenza, qui al lago del Turano! Ma vi rendete conto? Non è che uno deve andare all'Universal Studios per vedere certe cose! E tutto questo lo sta facendo per... Viva la notte! Grazie amico! Ti metto anche il pollicione! Un bel like per te! Ciao! Oh là là! Tuffone! Incredibile! Si riparte! Che bellezza! Che giornata! Un cielo così azzurro! È una giornata paradisiaca! E questi posti sono incredibilmente belli! Ecco, questa ragazzi è la diga che bloccando il corso del fiume Turano ha dato origine al lago del Turano. Andiamo a vedere di là che cosa succede. Teoricamente la diga è percorribile, wow! E allora la percorriamo. Bellissimo! Da una parte il lago, eccolo, e dalla parte opposta lo strapiombo nel vuoto. Viva la moto in versione Adventure, sono qui al lago del Turano, guardate che spettacolo questo lago, veramente bello. Poi questa giornata gli dà veramente giustizia, con dei colori splendidi. Ecco qui i pescatori, ma se mi giro di 180 gradi e mi affaccio a questo balconcino, guardate cosa succede. Il salto nel vuoto, ragazzi, eccoci qua! Un bello strapiombo, questa è la diga. Questo ovviamente era il letto del fiume Turano. E questo cielo azzurro e queste montagne verdi ci fanno da cornice. Io torno in moto, ciao! Cuvve pericolose su tutta la tratta. Attenzione al ghiaino, attenzione! Strade sporchissime, piene, guardate, di sabbia, quindi andiamo veramente piano perché ce l'avevano detto che erano cuve pericolose. Arrivato a circa metà dell'itinerario di oggi, a chi mi sentirei di consigliarlo? Sono agli smanettoni sicuramente perché cari smanettoni amici miei, qui c'è poco da smanettare perché le strade sono piuttosto strette, spesso con buche, magari sporche, c'è la sabbia o comunque la ghiaia, eccetera. Piuttosto mi sento assolutamente di consigliarli a tutti coloro che invece vogliano vivere un'esperienza di grande libertà a bordo della propria moto, ma regalatevi un itinerario del genere, molto morbido, semplice dal punto di vista della guida, nel senso che ovviamente ecco le strade per l'appunto sono piene di buche, guardate che cos'è, qui sembra siano scoppiate delle bombe. Per cui sempre in campana, mai di corsa, però quello che c'è di bello, l'aria frizzante profumata, questi colori, il giallo delle ginestre, il verde che davvero ti riempie tutto, guardate qua pure andando piano si perde l'avantreno. Per cui massima cautela, ma veramente facciamo volare alto il nostro sentimento, il nostro cuore. Qua non vedo una macchina, sarà boh 8-9 minuti, non vedo proprio una persona da 8-9 minuti, quindi potrebbe, non so, venire un grizzly a attraversare la strada e sbranarmi, o anche un alieno che prende e mi rapisce. Ecco a noi la civiltà che qui prende il nome di Longone Sabino. Ragazzi mi sono perso, devo chiedere aiuto a Google Maps. Ok ragazzi, notizie confortanti, seguiamo le indicazioni per Valle Cupola e prima o poi arriveremo al Lago del Salto. Appena doppiata Valle Cupola, non troviamo uomo né macchina di umana concezione, ma troviamo queste bellissime mucche al pascolo, si arrabbieranno? No, mi stanno guardando male. D'altronde l'avevamo detto, questo è viva la moda adventure, ma perché guardate me se ci sta la macchina rossa? Scusate, fortunatamente non c'è un toro, se no ovviamente questa macchina sarebbe stata caricata. Io prendo spunto dallo scudo datomi da questa macchina. Buonasera, fermi tutti, sono enormi, voilà, buonasera anche a lei, arrivederci e ce l'abbiamo fatta ragazzi, missione numero 1 di Viva la Motor Adventure, è stata completata con grande successo, arrivati al Lago del Salto, è qui alla nostra destra, attenzione, ragazzi che spettacolo questo scorcio, guardate, qui viene proprio voglia di buttarci, il colpo d'occhio è notevole, qui siamo arrivati ovviamente alla diga, lo sbarramento, mi fermo sulla diga che così vi faccio vedere anche lo strapiombo. Uno spettacolo, guardate questo paesaggio, non so se il telefono renda l'idea ma ti fa venire le vertigini e poi, proseguendo, facciamo un 180 gradi e eccoci qua, il Lago baciato dal sole in tutta la sua bellezza estiva. Tra i due laghi, pensate una curiosità, c'è soltanto un metro di dislivello, questo è posto a 535 metri sul livello del mare, mentre il Lago del Turano a 536, quando si dice la vita come beffarda. Una giornata piacevolissima, credetemi, proprio senza impegno fisico alcuno, respirando quest'aria buonissima, fresca, profumata e riempiendo gli occhi di questi passaggi incredibili. Vi ringrazio di avermi fatto compagnia durante questa bella gita, spero che vi sia piaciuta e se vi è piaciuta ragazzi mettiamo un like, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale Birichini! Va bene ragazzi, un saluto da Duccio, è tutto, ciao, alla prossima!